ed eccoci collegati buon pomeriggio bentornati a questo appuntamento con i webinar organizzati in collaborazione con Fontobel primo appuntamento del duemilaventidue e vado immediatamente a salutare Jacopo Fiaschini ciao Jacopo ciao per Paolo ben ritrovato e ben ritrovati bene ben trovato a te e abbiamo davanti un anno un anno sicuramente intenso eh o almeno eh lo avremmo sarebbe stata a prescindere intenso che chiaramente avremmo occupato come sempre l'ora a nostra disposizione per far compagnia e soprattutto per trasferire concetti si spera interessanti poi se andiamo a guardare anche l'andamento nei mercati di questa prima parte dell'anno in particolare il primo mese di gennaio ci si aspetta senz'altro insomma che possa essere purtroppo a questo punto intenso insomma dipende dai punti di vista però insomma la dinamica anche per questi giorni stiamo vedendo è particolarmente confusa i mercati e gli investitori sembrano effettivamente un po' disorientati ma andremo a parlarne fra poco innanzitutto do il benvenuto a tutti coloro che si sono già collegati e che ci stanno raggiungendo ricordando che il webinar è in fase di registrazione pertanto sarà possibile poi rivederlo sul nostro canale telegram già da domani mattina e domande qualsiasi domanda ovviamente fatela eh siamo qui a a disposizione per rispondere in particolare Jacopo naturalmente cercherà di chiarire tutti i dubbi che riguardano i prodotti di cui andremo a parlare e perché no chiaramente anche di quelli che eventualmente abbiamo tenuto fuori da questo eh da questo webinar di oggi eh poi naturalmente Jacopo ricorderà anche i contatti se ci sono delle domande un pochino più eh che richiedono un po' più di tempo quindi questo è per quanto riguarda la parte logistica allora io darei così un' anticipazione a chi è già collegato e appunto ripeto nel frattempo che arrivi qualcun altro eh un'anticipazione su quello che faremo oggi ma non solo in realtà quello che faremo per tutto il duemilaventidue perché con Jacopo abbiamo deciso di dare per quest'anno maggiore spazio ai certificati di tipo tracker e strategic ovvero quelli che consentono di replicare una un tema e quindi un'idea sottostante senza ricorrere all'utilizzo dei certificati strutturati ovvero i tipici il cash collect ci concentreremo quindi sull'universo dei tracker e strategic poi le differenze dovrebbero essere già note ma sono certo che Jacopo non mancherà poi di ricordarcele e e proprio per questo per tutto il duemilaventidue quindi fermo restando e parleremo anche degli altri prodotti eh non è che non li toccheremo però per tutto il duemilaventidue anche come eh certificati e derivati lanceremo ma quindi al termine di questo webinar nei prossimi giorni un'iniziativa dedicata proprio ai tracker e strategic certificate che ricordiamo appunto consentono una buona direi anche ottima ma naturalmente poi dipende da quanto si può si vogliano utilizzare eh diversificazione di portafoglio i temi sono moltissimi oggi Jacopo adesso così ma ehm passando ehm riguardando un po' l'offerta eh ci sono circa quaranta strumenti no che avete quotato eh da da domani da domani quarantadue ecco circa quarantadone domani quarantadue fra poco ci dirai la novità e e stavo guardando che le performance di questi mh strategic poi alla fine o comunque tracker sono state in buona parte delle grandi performance ho visto certificati partiti a cento e quotano duecento duecento venti che abituati un po' al mondo dei cash collect eh quando anche le cose vanno bene sappiamo che chiaramente eh i rendimenti non possono essere a doppia a tripla cifra perché perché c'è anche della protezione vuol dire quindi è stato anche un buon timing di lancio di questi prodotti no e e riguardandoli un po' visto l'intelligenza artificiale le batterie a litio eh questi questi temi adesso cyber security e poi anche l'ultimo di cui abbiamo parlato forse un paio di webinar fa che era quello legato alle emissioni di CO2 che pure quello mi sembra sia schizzato in alto e quello è partito un po' diverso perché l'abbiamo lanciato con multiplo uno eh se lo ricorderà chi ci aveva già seguito nel precedente appuntamento cinquantanove zero sette di partenza oggi aveva un prezzo bid in chiusura di circa novanta cinque euro quindi eh quindi performance importanti e soprattutto in poco tempo perché l'abbiamo lanciato alla fine dell'anno scorso eh sì un paio di mesi fa è buon per chi chiaramente ha seguito queste indicazioni e si è fatto un po' anche incuriosire ecco eh oggi abbiamo del materiale per incuriosire perché c'è una ulteriore novità anzi vorrei dire forse eh non tanto una delle novità proprio l'inedito eh anche sul mercato italiano vuoi senza entrare nel dettaglio diamo proprio un'anticipazione flash assolutamente eh abbiamo deciso ci stiamo lavorando da da un po' e domani sarà primo giorno di quotazione eh del nostro nuovo strategic certificate quindi le differenze le andiamo a guardare dopo ma ecco replica lineare di un sottostante di un indice tematico sottostante eh in questo caso il tema è un tema abbastanza dibattuto eh però caldo ed interesse per il momento che è il tema dell'uranio e dell'energia nucleare. Ok quindi uranio ed energia nucleare tema totalmente nuovo naturalmente poi insomma eh Jacopo ci spiegherà eh oltre che il funzionamento la parte del funzionamento del trager è la più semplice no? Perché durante l'anno in realtà potremmo anche mettere così un disclaimer tanto i certificati sono tutti uguali i trager in questo senso replicano eh passivamente un sottostante è il sottostante che cambia che può essere anche gestito attivamente e ci sono un po' già di domande natural c'è anche qualcosa è vero è vero onor del vero abbiamo detto molti buone performance purtroppo Marco ricorda ad esempio quello sull'idrogeno invece non è andato bene ma devo dire che adesso Jacopo non so se tu hai contezza della performance ma non credo che possa aver fatto molto meglio di quello che ad esempio ha fatto l'ETF sull'idrogeno che è stato quotato in quel periodo e chiaramente ha preso una prima parte il confronto il confronto non ce l'ho adesso davanti però la performance ha quasi raddoppiato il valore di emissione quindi comunque possiamo ritenerci soddisfatti è chiaro che poi c'è stata una flessione di tutto il settore eravamo arrivati se non mi sbaglio intorno ai duecento trenta eh a livello di prezzo dal prezzo di cento di emissione eh e ora siamo in flessione intorno ai cento novantacinque comunque performance non non banalissima allora diciamo che come sempre quello che è stato soffrendo un po' Pierpaolo è uno degli ultimi che abbiamo lanciato è il China New Vision ma tutto il contesto lì è abbastanza particolare eh ma essendo nella maggior parte gli ultimi quelli che stiamo di quelli che stiamo lanciando open end eh si prestano anche lo diciamo spesso in ottica di piano di accumulo per ingressi eh eh dilazionati per eh anche un orizzonte temporale di investimento più lungo certo che poi ecco hai fatto bene a ricordare infatti eccolo qui quello sull'idrogeno per a un ore del a un or del vero giustamente Marco dice è sceso molto però è sceso dai massimi proprio da questo perché effettivamente lo vediamo eh partito nel duemilaventi a cento tredici è arrivato fino a trecento e poi dipende poi quando uno entra certo che se è entrato sui massimi eh o comunque anche duecentosettanta a novembre adesso si sta prendendo tutta la eh correzione che ha interessato ai titoli eh ovviamente del settore e quindi naturalmente ricordiamo quella magari quella plug power negli Stati Uniti che appunto è crollata letteralmente insomma nelle ultime sei settimane ma comunque ci sono tante domande quindi fra poco te le leggerò prima naturalmente visto che ormai siamo credo almeno chi voleva partecipare immagino si sarà collegato eh due parole ma così ma insomma è è un'abitudine eh che preferisco non perdere ma non peraltro che insomma è un brevissimo commento di fine giornata non servirà a granché però insomma ricordiamo che i mercati almeno per quello che riguarda l'Italia abbiamo è chiuso da poco ma i contratti future vanno avanti e vanno avanti con questa giornata decisamente negativa contrassegnata ancora una volta eh dico da un eh praticamente praticamente riduzione di un quarto del valore di uno dei titoli azionari eh che magari vengono anche utilizzati spesso per la costruzione i certificati abbiamo iniziato eh lunedì con Saipem eh che però in questo caso naturalmente non riguarda gli Stati Uniti avevamo visto qualche ora prima Netflix perdere anche il trenta per cento in in overnight sulla scia di una trimestrale che non era piaciuta molto poi è arrivata PayPal meno venticinque per cento nella giornata di ieri e questa mazzata eh che a questo punto fa fa temere il peggio per le prossime trimestrali di Facebook meta che appunto ha perso il venticinque per cento sta perdendo in questo momento il ventiquattro e cinquantadue nella serata di ieri poi per solidarietà tutti i social media sono venuti giù e e non è finita perché oggi Amazon eh con la trimestrale attesa per questa sera si sta preparando con un meno sei e quaranta quattro al momento e insomma devo dire che le trimestrali forse hanno alzato la sticella decisamente a livelli molto alti e quindi basta una revisione dell'outlook anche di pochi eh centesimi per far per far venire giù tutto e quindi ecco che vediamo che almeno per quello che riguarda la tecnologia continua questa fase di volatilità tra l'altro in uno dei appuntamenti di un paio di giorni fa avevo appunto avuto modo di ricordare che benché il Nasdaq stesse rimbalzando e i mercati stessero rimbalzando e probabilmente per un po' di tempo questa volatilità continuerà ad accompagnarci e quindi ecco il risultato oggi con questa pessima performance in linea generale comunque mi sembra di poter dire che le performance si sono accentuate un po' eh sotto a tutte le latitudini anche sulle materie prime insomma eh ci sono stati performance superiore al quindici per cento in negativo per alcune materie prime e quindi è un mercato veramente difficile lo ripeto insomma probabilmente il fatto che sia un mercato difficile lo dico da 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 quindici anni a questa parte però mi sembra di poter dire proprio in questa fase è più difficile perché è un po' più cattivo cioè puoi anche andare eh ritrovarti incastrato in una posizione su un titolo che eh viene bocciato dalla trimestrale ma non per questo deve perdere il trenta per cento insomma quindi eh finora non era una consuetudine questa ma comunque eh questo era un po' per un brevissimo commento io Jacopo a questo punto così poi dopo io mi faccio un passaggio sulle email sulle domande che ho visto che sta continuando ad arrivare stanno continuando ad arrivare ti affido il controllo del monitor e naturalmente a questo punto anche la parola e ricordando appunto che adesso parleremo di questa importante novità legata alla nucleare ma riandremo a vedere anche eh in tema di di tracker di benchmark andremo a vedere anche il certificato sulle emissioni di CO2 nonché l'ultimo sull'inflazione e poi se possibile riusciremo a vedere anche qualche cash collect ma oggi è il primo appuntamento di questo nuovo ciclo quindi non mi dilungo oltre e eh a te Jacopo no beh è sempre interessante non perderla come come abitudine quella di contestualizzare con i mercati perché eh la ritengo essenziale poi perché eh anche il il nostro lavoro poi da emittente eh è quello di offrire soluzioni per il momento storico che sia il momento economico storico che stiamo vivendo quindi eh anche le nostre emissioni si basano sulle valutazioni di mercato è sempre essenziale andare a sottolineare i trend ecco ehm per tornare a noi invece su questo nuovo prodotto eh abbiamo detto che il focus sarà su uranio ed energia nucleare eh inizio col dire che si tratta appunto di uno strategic certificate e quindi eh categoria CEPI capitale non protetto eh benchmark eh replica lineare del sottostante la particolarità di questa tipologia di certificati come dicevi Pierpaolo non è tanto nel certificato in sé perché si tratta semplicemente di una replica una call strike zero sull'indice sottostante la particolarità può essere se l'indice è un indice prima di tutto terzo o proprietario eh e se questo indice sottostante è gestito attivamente o passivamente e da qui la distinzione tra tracker e strategic certificate che ormai eh vengono anche più comunemente eh conosciuti anche in Italia come AMC cioè actively managed certificates certificati gestiti attivamente non è il certificato che viene gestito gestito attivamente ma il sottostante e in questo caso come nel caso delle ultime nostre emissioni su questo segmento eh ci avvaliamo del know how dei nostri portfolio manager di Zurigo nella loro divisione multi asset boutique Vescor ehm e lasciamo a loro il compito di prima di tutto selezionare secondo gestire discrezionalmente eh questa location di portafoglio che poi compone il paniere sottostante di questo certificato ma perché abbiamo deciso di proporre un qualcosa sull'uranio e sull'energia nucleare eh prima di tutto perché abbiamo visto un buco di mercato nel senso non c'erano soluzioni di questo tipo ma non tra i prodotti strutturati anche proprio in generale per andare a toccare il tema per gli investitori italiani e quindi abbiamo deciso di muoverci in tal senso a maggior ragione eh non è stato semplice devo devo anticiparlo non è stato semplice per Paolo far uscire un prodotto di questo tipo perché la l'argomento è sicuramente controverso eh un assist importante ce l'ha dato anche la decisione che è stata presa di recente da parte dell'Unione Europea che ha spostato il nucleare e il gas eh alla categoria di energie sostenibili questo ha creato ancora di più delle discussioni interne tra paesi dell'Unione Europea e diciamo che i portabandiere delle due fazioni sono Germania da una parte e Francia dall'altra abbiamo da una parte la Germania che sta dismettendo tutti gli impianti nucleari mentre la Francia addirittura nel nuovo piano che ha presentato dove eh prevede di investire trenta miliardi eh e ne vuole destinare addirittura uno su questo su questi trenta miliardi proprio per l'energia nucleare eh direi che le visioni sono completamente opposte il dibattito c'è e c'è anche spazio per gli investitori per entrare ad investire su un tema che sicuramente è caldo poi non voglio schierarmi né da una parte né dall'altra però il tema è caldo e abbiamo pensato di eh portare sul mercato italiano un prodotto che desse la possibilità agli investitori di di esporsi ecco in base alla loro alla loro visione su questo eh ecco la la situazione è eh è questa eh ci troviamo davanti a a un'energia che visti gli obiettivi ambiziosi dell'Unione Europea cioè quelli di net zero emission entro il duemilacinquanta quindi di diventare il primo continente ad emissioni zero di CO2 entro il duemilacinquanta obiettivo molto ambizioso ehm abbiamo due vie o andare con l'energia tradizionale o andare con l'energia eh rinnovabile oppure una via di mezzo e questa via di mezzo potrebbe essere l'energia nucleare perché potete vedere da questo da questo grafico eh qual è il consumo e l'emissione di gas serra da parte di tutte le fonti di energia che comunemente vengono utilizzate e potete vedere che dal punto di vista delle emissioni di CO2 l'energia nucleare pareggia l'eolico in mare non raggiunge l'eolico su terra ma pareggia l'eolico in mare quindi semplicemente dal punto di vista delle emissioni di gas serra l'energia nucleare entra a a a tutti con con tutti i titoli possibili all'interno della categoria di energia sostenibile va detto che poi entrano in gioco alcune dinamiche abbastanza particolari di questa energia quali eh le scorie radioattive di uranio e soprattutto il rischio di disastri nucleari come quelli che purtroppo abbiamo vissuto nel recente passato eh quindi per Paolo questa è la situazione non so se vuoi intervenire intanto o posso andare avanti? No no direi che possiamo naturalmente andare avanti nel senso che giusta l'introduzione che hai fatto naturalmente una cosa che volevo immediatamente ricordare è che quando si parla di questo genere di di temi di investimento mi ricorda un po' mi riporta alla mente forse uno dei primi certificati eh che nel lontano duemilanove e duemiladieci consentiva di investire sull'uranio già se ne parlava a quell'epoca e mh ed è fu certificato di tipo tracker benchmark anche in quel caso dopodiché il tema divenne talmente tanto anche investibile che mh venne quotato un contratto future che però poi proprio per una serie di motivazioni legate anche alla sostenibilità e anche all'interesse è stato è stato praticamente cancellato e quindi oggi di strumenti per investire su questo tema praticamente non ce ne sono tranne forse un etf quotato negli Stati Uniti e quindi al di là poi di quelli che sono le motivazioni che portano ad inserire i titoli nel nell'indice ora lo andremo a vedere e si tratta comunque di una novità e soprattutto anche quel obiettivo ambizioso e a cui hai fatto riferimento della parte dell'Unione Europea del duemilacinquanta l'avevamo visto anche parlando appunto delle emissioni di co2 e chiaramente continua ad essere un obiettivo non so se ci si riuscirà però in ogni caso nel frattempo il mondo va da quella parte no va in quella direzione e quindi assolutamente no non aggiungerei altro rispetto a questo se non il fatto che si tratta comunque di una novità che bisogna prendere in considerazione se si vuole diversificare e anche un po' accodarsi a questo tema. E soprattutto per Paolo mi 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 aggancio io eh l'obiettivo ambizioso net zero duemilacinquanta eh gli schieramenti di cui parlavo prima cioè Francia e Germania come porta bandiere la Francia non ha mai detto nonostante gli investimenti che sta facendo in questo settore eh non ha mai detto che il nucleare è l'energia del futuro ha semplicemente eh crede che l'energia l'uranio il nucleare eh possano servire da ponte se contestualmente verranno fatti gli investimenti giusti sul sostenibile in modo da essere pronti più avanti a utilizzare pienamente l'energia sostenibile che invece oggi non è sufficiente per il fabbisogno globale. Questo è il punto e questo è il perché siamo andati a proporre un un prodotto di questo tipo anche perché eh e lo lo chiarisco subito eh prima di di far sorgere qualche dubbio eh l'indice sottostante è composto da azioni quindi è un cento per cento equity composto da venticinque azioni che eh operano attivamente nel settore o dell' estrazione dell'uranio o dell'energia nucleare strettamente con focus su questo settore. Eh le azioni di questo settore per dieci anni praticamente erano morte e la conversazione eh uranio sostenibilità a questo dibattito ha riacceso gli animi e anche ridato vita a queste azioni che erano veramente eh in declino ormai da dieci anni eh ha ridato vita a queste azioni che si stanno muovendo e si stanno muovendo anche in maniera importante anzi interrompo un attimo questa presentazione perché vorrei far vedere un grafico che ritengo abbastanza interessante la linea bianca è l'etf di cui parlavi Pierpaolo l'etf americano su eh i miners di uranio etf americano ora abbiamo visto in in questa immagine ci sono tanti spunti perché eh vedevo da poco la stessa immagine senza l'etf uranium miners ma semplicemente con l'archi innovation etf e S&P 500 eh per vedere la convergenza che c'è stata tra eh archi innovation lo lo conoscerete tutti immagino l'etf eh l'etf all'interno del quale ci sono tutte le società tech eh che in questo momento stanno soffrendo e lo si vede anche dal dal grafico quindi si sono riallineate le performance di possiamo riassumere e semplici semplificare così si sono riallineate hanno fatto min reverting le performance di growth e value ecco il il trend degli uranium miners invece rimane quello con una performance del più duecento sei virgola trentuno per cento da marzo duemilaventi ora da qui non vorrei dire che continuerà così a sovra performare tutti i maggiori indici all'infinito assolutamente vorrei semplicemente dire che uno dei dei temi che tocchiamo sempre quando andiamo a proporre certificati tracker strategic tematici eh che toccano temi particolari di nicchia è sempre il tema della diversificazione ecco inserire un prodotto di questo tipo in portafoglio potrebbe aiutare a sostenere eh il bilancio complessivo in momenti come quello che stiamo vivendo per Paolo non so se qui vuoi dire qualcosa no no intanto mi avevi incuriosito stavo cercando di rifare il grafico con con Berkshire eh eh e l'Arch Innovation per far vedere insomma come si possa arrivare allo stesso livello nel frattempo anche se insomma era una era così una curiosità no no ma non aggiungere altra andrea visto del tempo vedo che già passa esatto quindi ecco la la convergenza tra tra growth e value eh e invece eh la la strada completamente sua e autonoma che sta prendendo questo settore ma eh ecco ho già senza senza andare attraverso la la presentazione ho già toccato molti temi eh che potete trovare tra l'altro all'interno della presentazione nella pagina di questo di questo prodotto eh un tema sicuramente importante gli altri li ho già toccati è quello della sicurezza perché come dicevo prima a livello di emissioni ci siamo siamo in linea con i requisiti di sostenibilità ma la sicurezza è un grosso sì perché i rischi di di disastro nucleare e soprattutto anche i rischi collegati alla allo stoccaggio dell'uranio e allo smaltimento delle scorie radioattive non sono da sottovalutare ecco da qui ci sono vari spunti per le prospettive del settore nel futuro immediato e non prima di tutto l'esempio della Francia che è quella che quindi ripetiamo si sta muovendo più attivamente nel settore la Francia investirà quel miliardo del suo progetto più ambizioso anche per avere dei reattori moderni piccoli innovativi che a dire loro a di a detta loro chiaramente non sono un esperto del campo sono più sarebbero più sicuri e potrebbero aiutare a gestire in maniera migliore le scorte le scorie di di uranio radioattivo da un altro punto di vista invece questo lo aggiungo io non è in presentazione c'è anche il progetto di lungo termine ma che sembra sia dando risultati abbastanza abbastanza importanti in questo ultimo periodo è quello del lavoro del progetto della fusione nucleare perché la fusione nucleare per semplificarla al massimo si tratterebbe di creare un piccolo sole artificiale quindi un'energia infinita praticamente o perlomeno sicuramente non finita come le moderne forme di energia che le forme di energia che conosciamo quindi di chiarare questo sole artificiale che non avrebbe praticamente gas serra quindi niente emissioni niente scorie e soprattutto visto il le moderne tecniche di io poi anche qui mi sono informato ma non sono un esperto di confinamento magnetico aiuterebbe a a stabilizzare il le centrali nucleari e quindi ridurre drasticamente il rischio di disastri nucleari quindi anche in ottica di medio lungo termine potrebbe anche non essere solo una energia di transizione ma ecco se arriveranno risultati importanti anche da questi progetti perché no sarebbe una fonte sicuramente utile a livello globale ecco Jacopo diciamo che io se ci fosse la possibilità di fare una sorta di così di dibattito mi farebbe piacere fare intervenire uno dei nostri utenti perché evidentemente ha certamente più competenze almeno di me certamente poi non so naturalmente delle due però si interessa evidentemente della materia perché comunque sta commentando anche le cose che stai dicendo e così mi sembra doveroso quanto meno di portarti ciò che sta scrivendo che chiaramente poi però insomma un po' dal dal tema o meglio non prescinde è proprio oggetto dell'argomento però poi ognuno assolutamente ho premesso ho premesso che non sono un esperto e mi rifaccio a fonti comunque autorevoli ma questo questo è chiaro anche perché insomma se uno si specializza nel mondo degli investimenti della finanza logicamente per forza deve sapere tutto allora ehm no lui giustamente francesco però adesso questa è una considerazione abbastanza eh forse condivisibile il punto è se introdurre nelle tecnologie verdi le centrali nucleari di quarta generazione che ancora non ci sono e prima va sviluppata la tecnologia poi si costruiscono le centrali e a quel punto può partire la domanda di uranio altrimenti probabilmente dice giustamente francesco insomma la domanda muore no nel senso se poi non non si sviluppa tutto questo processo eh con sviluppando le tecnologie quindi poi oltretutto andando avanti eh eh ingegnere nucleare quindi eh quindi diamo il beneficio di saperle certamente molto più di me e mh e va bene comunque allora naturalmente poi avrò il piacere Jacopo di girarti le considerazioni di di Francesco che ringraziamo assolutamente anzi interessato al massimo e se vogliamo anche sentirci i contatti sono nel nostro sito quindi molto volentieri ecco però questa invece quest'altra di Mauro quindi Francesco ha scritto un po' di cose e lo ringraziamo naturalmente anche perché quando si comincia a parlare di determinati temi avere delle competenze eh è è cosa buona e giusta e questo assolutamente a ciò che stiamo vivendo in questa epoca dove ormai tutti parlano di tutto e quindi noi ci limitiamo chiaramente a commentare in questo senso eh ma ad esempio Mauro dice un'altra cosa che ritengo interessante che può essere uno spunto sull'ottica anche del prodotto la fusione nucleare ha un'ottica di venti trent'anni aggiunge lui eh ritorni non ce ne sono può essere interessante per gli investimenti nella filiera quindi forse questo potrebbe essere un tema che ci riporta anche un po' alla scelta alla selezione esatto alla selezione proprio la slide giusta eh perché in questa slide indichiamo quali sono i criteri eh su cui si fonda poi tutta la selezione che viene fatta appunto dal nostro team di Zurigo eh vengono considerati mercati sviluppati ed emergenti eh escluse a priori chiaramente a priori chiaramente tutte le aziende che figurano nelle liste di sanzioni internazionali escluse le azioni legati legate allo sviluppo di armi nucleari ma ecco la scelta relazione avviene per un focus specifico sull'energia nucleare da due lati estrazione di uranio o chi lavora attivamente nel settore dell'energia nucleare cioè che genera percentuale di ricavi eh attivamente da questo microsettore eh cosa succede? Se non vengono trovate venticinque aziende in grado di eh rispettare i requisiti che ci siamo prefissati per l'inserimento all'interno del paniere si amplia leggermente eh i criteri si amplia leggermente i criteri di selezioni e vengono e comunque per cercare di portare quantomeno esattamente e quindi come potete vedere eh nella parte indice se non vengono trovate venticinque società adeguate le posizioni rimanenti dell'indice sono riempite da aziende che offrono tecnologie o servizi legati al settore nucleare quindi mi riferisco anche a tutta l'infrastruttura eh un esempio mi sembra dopo magari lo possiamo anche vedere per Paolo all'interno del nostro del nostro sito indice a punto fontobel punto com potete sempre vedere la la location aggiornata su base quotidiana dell'indice sottostante ehm dovrebbe essere inserita attualmente anche di Fonsi francese Vinci eh proprio perché eh lavora attivamente all'infrastruttura per l'energia nucleare anche se non direttamente eh attiva nel settore energia nucleare però ecco questo è il punto la composizione viene rivalutata ogni sei mesi e questo aggiungo viene rivalutata almeno ogni sei mesi cioè ci sono due ribilanciamenti all'anno da obbligatori da fare eh partono tutte le venticinque posizioni con lo stesso peso e peso del quattro per cento e si tratta di un indice a reinvestimento dei dividendi quindi i dividendi vengono reinvestiti nell'indice direttamente questa è la composizione iniziale nella top ten eh Cameco Corporation è una delle società forse più conosciute e più con maggiore peso all'interno di quegli etf che abbiamo visto prima URA URNM eh diciamo che è la società canadese più conosciuta nel settore uranio e nucleare eh ed ecco queste sono le caratteristiche del del prodotto la scheda prodotto eh ricordiamo classificazione capitale non protetto eh il nome dell'indice l'avete visto andrà in quotazione da domani dopo aver fatto strike il trentuno gennaio duemilaventidue si tratta di un open end a una commissione di gestione che ormai definirei tipica per questa tipologia di strategic certificate cioè un uno e venticinque per anno che lo ricordiamo viene dedotto eh un trecentosessantesimo di questo uno e venticinque viene eh dedotto dalla performance dell'indice su base quotidiana appunto ed ecco qui sotto potete vedere l'Aisin di zero 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 PX cinque otto sei uno cinque e il certificato lo ripeto andrà in quotazione da domani il prezzo è in euro cento euro di nominale lo ricordiamo sempre l'indice è un indice invece eh quotato in dollari quindi c'è il rischio cambio da tenere in considerazione molto bene quindi allora la la scelta delle venticinque azioni ehm in questo caso adesso sono state naturalmente selezionate dopodiché in quale caso potranno essere eh variate il ribilanciamento è ogni sei mesi lo ricordiamo sì sì allora il ribilanciamento è eh ogni sei mesi eh e quello lì essendo uno strategic certificato esatto esattamente quello è è un ribilanciamento necessario anche perché essendo un settore abbastanza movimentato si vuole evitare che un titolo o più titoli diventino troppo pesanti all'interno del paniere quindi ogni sei mesi si rivaluta necessariamente poi se c'è qualche accorgimento da fare lo strategic certificate ci dà questa possibilità cioè il gestore il portfolio manager ha facoltà di modificare la composizione dell'indice in base a alle analisi alle loro analisi bene allora Jacopo io farei un passaggio rapido su tutte le tante domande sono arrivate così vediamo anche se ce n'è qualcuna che ci può dare qualche spunto eh allora innanzitutto non era una domanda ma era una considerazione di Maurizio dice i tracker li possiamo utilizzare in sostituzione dei fondi tematici e mi sento di dire chiaramente che almeno credo che da parte vostra sia proprio questo l'obiettivo cercare di fornire una soluzione alternativa al mondo dei fondi tematici andando a questo punto quindi in qualche modo a diciamo sostituire la gestione puramente attiva che può essere fatta da un gestore all'interno del fondo con una gestione in questo caso una selezione discrezionale dei titoli e comunque in questo caso una gestione chiamiamola passiva perché si andrà avanti con un equipesato però con una differenza sostanziale che poi non l'avevo letto c'era forse alcun'altra considerazione che mi riporta invece ad una osservazione che è arrivata proprio poco fa fra poco vado a leggere il nome non me la ricordo adesso che dice però uno e venticinque di commissione viene considerato un po' caro detto che Jacopo in ogni appuntamento c'è chi poi fa questo tipo di osservazione ecco forse va fatto va ampliato un po' il discorso ricordando che anche che innanzitutto se lo rapportiamo ad esempio un fondo tutto sommato così caro non è rispetto ad un etf ci sono degli etf ben più economici ma qui c'è anche una considerazione fiscale da fare esatto lo ripetiamo sempre quando parliamo delle maggiori differenze i competitor in questo segmento sono chiaramente etf da una parte soprattutto più vicini ai tracker e fondi di investimento dall'altra più vicini agli strategic noi ci vorremmo posizionare proprio in mezzo prima di tutto per quello che dicevi per paolo perché nessuno dei due né etf né fondi garantisce l'efficienza fiscale che invece un certificato di investimento garantisce quindi lo ricordiamo essendo un certificato prodotto strutturato eh quotato sul SEDEX come tutti i certificati come i cash collect come gli express come tutti i certificati i redditi e le plus valenze generate da certificati di questo tipo possono essere utili alla cioè sono utili alla compensazione delle minus valenze. Ecco eh a parte questo vantaggio della fiscalità Nicola ci chiede se comunque possiamo magari individuare qualche altra differenza con gli etf tematici in questo caso e non i fondi. Sì. Ti viene in mente qualcosa nel raffronto con gli etf? Sì. Ah prima di prima di tutto eh eh lo ripeto avvicinerei più tracker ad etf perché poi strategic l'abbiamo spiegato avendo una gestione attiva per me c'è già una differenza enorme con gli etf perché eh l'etf è la la passività per 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 eccellenza eh quindi avere un indice dove un portfolio portfolio manager ha discrezione di modificare la location già questa è una differenza abbastanza importante. Tra tracker invece che sono passivi ed etf una differenza oltre alla fiscalità che è importante i costi sono a favore del dell'etf in questo caso perché avete ragione sono più economici lato tracker invece sicuramente una differenza importante è la presenza durante tutta la giornata di negoziazione del market maker cosa che non avviene per gli etf dove il prezzo intraday è fatto da forze di domanda offerta. Ok ehm poi c'è c'è invece questo è interessante ma credo Anna Maria ci dice ma se il tracker replica un sottostante perché non comprare direttamente l'indice o l'azione? Allora diciamo che l'azione non è tipicamente un sottostante per il quale vale la pena creare un tracker o un qualsiasi replicante che possa essere un certificato tipicamente eventualmente si va in un altro ambito no? Che viene replicata l'azione. Esatto. Ehm nel mondo dei certificati invece tipicamente si va su indici sottostanti. Dice ma perché non comprare direttamente l'indice? Il problema è proprio che non si può comprare l'indice è proprio eh questo è il mezzo per arrivarci. Esattamente esattamente soprattutto poi questi indici che sono eh gestiti da noi. Ti sei rallentato o o mi sono rallentato io o te non so adesso. Mi senti? Ti vedo frizzato. Sono frizzato? Aspettami eh sto condividendo. Ti sentivo la welcome di tutti e due e vediamo un po' se riusciamo a recuperare un po' di banda eh. Sto condividendo lo schermo io non ti sento più. Ok eh. Pierpaolo? Pierpaolo? Mi senti? Pierpaolo tu mi senti? Ecco adesso adesso parla. Pierpaolo ciao. Sì 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 vai vai. Ok. Scusatemi scusatemi non so che è successo. È problema mio forse. Ok ok. Ehm ok quindi non mi ricordo cosa stavamo dicendo. No no sì dicevamo a proposito del fatto che se eh dice perché non investire direttamente sull'indice anziché investire ad esempio sul tracker. Ecco un po' questo. Ok no questo non è possibile soprattutto con questa tipologia di indici che sono gestiti da noi eh chiaramente per motivi di trasparenza viene fornita indicazione di prezzo da parte nostra dell'indice sottostante ma è un indice che comunemente l'investitore non potrebbe comprare ecco. Ok. Beh un po' come voglio dire alla fine è come dire perché non investire direttamente sul sullo Euro stocks cinquanta è comunque un indice dopodiché o compri un future o o compri un etf non è che puoi comprare l'indice così comunque. O ti replichi il paniere quello al massimo. Esattamente. E poi ancora eh oltre alle tante considerazioni appunto fatte sia da Francesco ricordiamo l'ingegnere eh ma anche Gianni così come Mauro ma tutte persone che avevano una certa competenza su quello che stavamo dicendo. Ehm ecco Alessandro eh non mi è chiara la commissione viene dedotta dalla performance giornaliera o dal valore della quotazione giornaliera? È proprio il calcolo della performance della performance quindi quando si va a calcolare la performance e quindi eh si riflette nel prezzo che il market maker espone questo prezzo risentirà eh in quota parte di questo uno e venticinque dedotto quotidianamente quindi se passano dieci giorni di quotazione sarà dieci trecenti dieci dieci giorni su trecentosessanta di questo uno e venticinque. Ok. No nel frattempo Michele che aveva fatto l'osservazione sui costi dice non è una polemica no no ma io l'ho preso come sconto. No 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 no. Lo ripetiamo sempre è importante capirle quali sono le differenze tra tra asset class quindi infatti poi a che categoria c'è vi appartengono questi certificati? Categoria certificati a capitale non protetto. Ok quindi la categoria non protetto che giustamente non ci sono non ci sono barriere e poi mi confermavano un po' tutti che il problema era mio quindi avete avuto un problema sulla linea e a questa interessante ci sono delle aziende dual use eh che producono per clienti sia civili che militari in questo caso che tu sappia Jacopo rientrano nel basket perché ricordiamo. Allora chiaramente non sono il portfolio manager io però ho parlato con i portfolio manager per la strutturazione e qualsiasi collegamento con con il militare è escluso. Ok ricordiamo sempre che in un mondo che ormai sta andando verso la tematica ISG dove non c'è non ci deve essere nessun tipo di eh diciamo di incoraggiamento a favorire tutto quello che riguarda la produzione di armi eccetera sarebbe stato insomma un po' un andare contro mano e però ok e va bene allora mi sembra di aver eh di aver risposto un po' a tutte le domande che riguardano questo tema. Ah nel frattempo io voglio ricordare ancora prima di andare avanti che come dicevamo prima ecco stavo guardando si dovrebbe si vede il mio monitor vero Jacopo? Sì 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 ok no nel frattempo tra passaggi tra il mio e il tuo non sapevo dove c'eravamo fermati. Ehm voglio ricordare che appunto tutta l'offerta di certificati tracker e strategic eh è possibile trovarla qui sul sito di Fontobel in particolare c'è qui questo motore di ricerca avanzato che vi permette di trovarli tutti quindi vediamo quarantatré e prima hai detto quarantadue quindi ho c'è quarantatré e quarantatré. Ok quarantatré quindi c'è già l'ultimo e con la possibilità di vedere poi per ciascun prodotto l'approfondimento anche degli articoli che vengono eh proposti. Ehm avevo accennato prima un'iniziativa eh per quello che riguarda certificati e derivati. Allora a partire dalle prossime settimane e quindi in previsione del prossimo webinar eh certificati e derivati realizzerà una sorta di selezione quindi non la possiamo chiamare portafoglio non sarà una gestione attiva e sarà una selezione che noi faremo dei migliori certificati tracker e strategic anche in funzione di quello che è l'andamento del mercato e del momento con relativi approfondimenti quindi ci sarà sia una sezione dedicata sul sito di certificati e derivati proprio al mondo dei tracker e quindi eh dove dentro ci sarà questa nostra combinazione questa nostra selezione e che andremo poi ad aggiornare per vedere anche un po' se in questo senso si riuscirà a generare comunque profitti da una selezione che chiaramente andremo a fare di volta in volta anche ripeto in funzione un po' di quello che sono i temi eh ne li aggiorneremo o faremo degli approfondimenti a cura della nostra redazione e quindi cercheremo poi durante tutto l'anno di dedicare anche un po' di spazio a questa iniziativa naturalmente non ci vede coinvolti in maniera così così eh responsabile sull'andamento dei tracker perché quelli continueranno a viaggiare sulla base del settore di appartenenza e della scelta dei titoli però è un modo anche da parte nostra per dedicare un po' di spazio ad una famiglia di certificati che notoriamente invece viene un po' messa da parte ricordiamo che su sette mila prodotti circa eh in quotazione sul mercato italiano poi quelli che hanno questa caratteristica di replica lineare non superano il centinaio quindi è sicuramente una tipologia di certificato meno trattata ma certamente Fontobel è la principale emittente e per questo motivo dedicheremo anche spazio a questo ehm Giuseppe mi scrive prezzi denaro non ho capito eh mi ha scritto solo prezzi denaro quindi o si è perso un pezzo di domanda o forse arrivava ce n'era una precedente che non vedo e prima di andare a dice prezzi denaro lettera ecco è arrivato parla del denaro lettera dello spread Jacopo quindi tra come come possiamo vedere anche da questa schermata che stai facendo vedere poi chiaramente eh può cambiare anche perché quando cresce il prezzo la percentuale eh per essere l'uno per cento cambia di conseguenza quindi questo va va sempre ricordato non è che è un euro sempre anche se il certificato sta a duecentocinquanta eh quindi eh gli spread sono quelli eh ci promettiamo sempre di mantenere gli spread intorno all'uno per cento chiaramente su prodotti in cui il sottostante al nostro ci riusciamo più facilmente. Ok quindi diciamo l'un per cento e hai fatto bene a ricordare l'un per cento in assoluto cioè non sul prezzo. Esatto. Cioè nel senso è l'un per cento ma non è un euro sul nominale e infatti lo vediamo qui esatto. Ad esempio sul China quota ottantatré sessanta, ottantaquattro e quarantacinque quindi zero ottantacinque eh euro o viceversa su quello che vede ecco qui quota due e ventuno, quota duecento e quattro tante. Esatto. era l'esempio perfetto. Allora ehm ce sono arrivate un po' di domande sui prodotti di investimento. Io se mi permetti Jacopo. Vai vai sì sì. Una delle caratteristiche dei nostri webinar che fa sì anche che per un'ora ci siano tantissime persone. Io non vado mai naturalmente a a snocciolare i numeri è poco importante tanto ognuno pensa a sé dall'altra parte quindi è relativamente utile sapere che ci saranno duemila o duventi persone. Però uno dei punti di forza è sempre stato quello di aver cercato di rispondere un po' a tutti. Quindi se mi permetti volevo dare un paio di risposte che riguardano il mondo degli investment certificate e cercherò di essere rapido per tornare poi ancora qualche minuto a parlare dell'idrogeno. No no ma è uno spazio essenziale va benissimo. Ok allora la prima domanda che riguarda questo certificato è se comunque non lo ritengo io sottovalutato. Ho già dato una mezza risposta ma comunque ne approfitto è un certificato di cui tra l'altro noi abbiamo avuto occasione di parlare in uno degli appuntamenti dello scorso anno è un memory cash collect ehm con opzione airbag che eh ha questo basket composto dai titoli Novavax, Biontech e Illumina che tra l'altro è anche andato vicino al rimborso anticipato anzi proprio Jacopo ci spiegò in uno dei webinar che il fatto che eh ci fossero due titoli sopra strike solo uno poco sotto era Illumina in quel momento e che Illumina avesse comunque una volatilità alta faceva sì che il prezzo fosse un po' più basso cioè paradossalmente eh c'era una situazione dove il prezzo era fin troppo eh basso proprio per via di una volatilità su quel titolo che eh poteva mh anzi in realtà su Illumina era una volatilità un po' più bassa era il rispetto agli altri due era proprio quello il senso. Sì sì ora ricordo eh infatti stavo ribaltando la situazione ovvero volatilità inferiore agli altri due sotto strike non lo aiutava se fosse stata ad esempio Novavax a essere sotto strike una volatilità molto alta l'avrebbe aiutata un po' di più purtroppo oggi ci troviamo invece in questa situazione dove due titoli su tre Biontech e Illumina comunque sono non a grande distanza allo strike a circa meno dieci meno dodici mentre Novavax ha perso molto terreno ha perso il quaranta per cento questo ha allontanato l'opzione di rimborsa anticipato e ha portato i prezzi praticamente sulla barriera quindi ad oggi il certificato dovrebbe quotare insomma lineare circa sessanta euro ma attenzione perché c'è l'airbag e quindi l'airbag dovrebbe aiutarlo a rimanere un po' più sostenuto cosa che però non sta accadendo più di tanto perché vediamo il prezzo è sessantatré quindi la domanda è non è sottovalutato? Allora guardando l'analisi di scenario mi verrebbe dire che è certamente un prezzo interessante cioè nel momento in cui noi abbiamo un teorico ad oggi di novantanove rispetto a sessantacinque comunque viene 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 certamente l'interesse però il frutto di questa situazione cioè la motivazione di questa situazione è la volatilità molto alta proprio di Novavax e quindi le aspettative che si hanno su questo titolo devono dettare l'eventuale incremento viceversa ecco non è il classico certificato airbag che puoi commentare dicendo è sopra o sottovalutato dipende purtroppo troppo da questo titolo che ci ha fatto vedere come si possa perdere anche il 30 40 per cento del giro di pochissime sedute quindi ok ce l'abbiamo in watch list tra l'altro aggiungo io è anche facente parte di quell'emc certificatore perché all'epoca proprio odore di rimborso anticipato sembrava molto interessante quindi il certificato esiste però dire che sia sottovalutato non me la sento perché purtroppo Novavax a troppa volatilità brevemente un altro certificato che invece mi è stato chiesto di un commento è questo che è un certificato che in questo momento è in mirolli perché fu uno di quelli che all'epoca venne molto molto considerato perché adesso vado un po' a rispolverare emissioni molto un po' datate questa è di gennaio duemila dicembre duemilaventi era uno di quelli che pagava la cedola mensile del tre ventitré quindi un cedolone veramente altissimo e devo dire che per fortuna si è riuscito a fare praticamente tutto il duemilaventuno pagando le sue cedole quindi ha pagato praticamente tredici cedole del tre e ventitré ciascuna quindi quarantuno punto percentuali li ha già dati a chi ha acquistato al nominale ora la domanda era cosa fare la considerazione su cosa fare dipende fondamentalmente da mio che è il titolo worst off perché gli altri due il france e biogen sono comunque ampiamente sopra barriera mio siamo poco sotto barriera a ventiquattro e ventuno contro una barriera ventisei e novantotto il prezzo attualmente è di sessantuno euro circa sessanta sessantuno in denaro e il rimborso adesso a parità di sottostante sarebbe di cinquanta quattro quindi si perderebbero diciamo così circa sette euro sul rimborso teorico a scadenza e cosa fare allora chiaramente anche qui purtroppo dipende troppo molto dalle aspettative se comunque c'è un po' di fiducia sul titolo mio in generale sulla cina per il prossimo anno perché questo scadrà a fine anno e allora vale la pena tenerselo anche perché basterebbe un undici per cento di nio per riattivare il rimborso del nominale viceversa per le cedole serve un trenta per cento perché il trigger cedole è più alto quindi undici per cento potrebbe valere la pena chiaro che se invece in questo momento uno la vede proprio completamente nera e dice no la cina per quest'anno ancora andrà molto giù io direi che si potrebbe approfittare del fatto che si può vendere a sessanta quarantuno euro sono stati già incassati è un po' come non aver guadagnato nulla dal duemila venti però perlomeno non si è andato incontro a perdite quindi per rispondere a Michele dipende un po' dal tipo di rischio che si vuole prendere può allora i numeri ti potrebbero aiutare ancora perché undici per cento di recupero nio può certamente farlo ricordiamo che siamo alla fine oddio alla fine spero io alla fine ma magari no però comunque sicuramente siamo a segui in scia ad una bimestre drammatico per i titoli tech e i titoli in particolare cinesi quindi potrebbe tranquillamente rimbalzare e lo abbiamo visto un altro ieri quando poi rimbalza fa anche 15 16 punti quindi gli spazi per tenerlo ci sarebbero però dipende quanto vuoi rischiare potresti chiudere come guarda una cosa che io probabilmente ho già raccontato molte altre volte quando veramente non so bene cosa fare utilizzo diciamo la scelta salomonica metà e metà magari metà te le tieni e metà le chiudi così che riduci il rischio e sulla metà che ti tieni quantomeno non hai il rimorso poi di aver chiuso tutto a fronte di un recupero ecco questa chiaramente è una valutazione tutt'altro che tecnica però è molto concreta e la applico spesso anche io sulle mie posizioni va bene allora ehm queste erano le due a cui volevo dare un po' di di seguito e poi ne sono arrivate altre Iacomo ma ehm non riusciamo a approfitto io per ripetere che per qualunque cosa e non solo per problemi anche se avete dei dubbi nel sito certificati punto fontobel punto com in alto abbiamo contatti e ci so c'è il numero di telefono e la mail potete contattarci quando volete oh c'è una domanda poi andiamo in conclusione o meglio se vuoi ti ripasso il monitor per vedere qualcosa ma questa diciamo è nello stesso tempo un po' provocatoria un po' simpatica se vogliamo quindi te la te la giro comunque c'è Giovanni che dice molto interessante uranio e nucleare e quindi tutto molto positivo dice però mi brucia una domanda dice ma perché fontobel emette certificati con sottostanti di cui strike sbragano immediatamente quindi diciamo e poi dopo scendono come può essere una roblex roblox piuttosto che nova vax e questa è la domanda di Giovanni naturalmente te la giro perché è evidente che non era una assolutamente lì purtroppo si fanno tutte le valutazioni del caso va detto che una recente missione nostra abbiamo preso fortunatamente roblox prima del non ricordo precisamente quanto fece ma ha fatto uno uno spike incredibile in due giorni quindi si era portata molto al di sopra dello strike e quindi siamo riusciti un po' a contenere la discesa successiva rispetto ad altri che sono entrati dopo perché ci siamo mossi fortunatamente un po' prima in ottica metaverso però è chiaro che poi non abbiamo la sfera di cristallo noi non l'avete voi quindi quando andiamo a fare un'emissione valutiamo tutto ma può capitare si aggiungiamo anche che spesso e che questo non riguarda solo fontopel è il mondo dei certificati in generale dal momento che i prodotti come abbiamo sempre detto vengono meglio cioè rendono potenzialmente di più hanno le barriere più basse quando c'è più volatilità e quindi spesso si utilizzano sottostanti più volatili per fare quei prodotti che poi piacciono al mercato proprio perché hanno queste caratteristiche però il rischio che appunto è che se il timing non è stato ideale e poi ci si ritrova con i titoli a scendere quindi è un po' questo. Ora mi viene in mente oltre a Roblox anche l'esempio delle varie Lucy Derivian non c'era troppa storia per andare a fare una valutazione volevamo comunque proporre qualcosa agli investitori per chi fosse sostenitore di queste due aziende e l'abbiamo fatto il momento non è stato ottimale. Fortunatamente sono certificati con barriere uno abbastanza profonde due con durate abbastanza lontane cioè con scadenza abbastanza lontane quindi poi possono anche verificarsi essendo quotati sul secondario delle buone opportunità per entrare successivamente per chi ci crede ancora quindi questo rimane. Ecco Jacopo nel frattempo provo a riadarti il ruolo il monitor non so se riesci a farci vedere magari sì tra l'altro se funziona perché io qui continuo a vedere che ad esempio mi da c'è la webcam attiva ma io non mi vedo quindi non lo so. Allora ho perso la prima parte del webinar registrato si può rivedere sì Massimo e quindi da domani sul nostro canale Telegram e dopo di che domanda di Michele eh cosa vuol dire bidonli quote driven ricordiamo che è una modalità di quotazione che borsa consente di quotare il prodotto solamente in denaro quindi per il riacquisto ma a differenza del bidonli classico si può vendere solamente al market maker è una modalità che può essere richiesta a borsa italiana è abbastanza poco frequente e qualche certificato naturalmente esiste ma in queste condizioni ma tipicamente c'è il bidonli classico però esiste la possibilità di fare il quote driven tipicamente quando magari si vuole cercare di eh magari revocare quel certificato e quindi riprendere in mano tutta l'emissione. E ti dicevo due tre minuti ancora per prima di salutarci così facciamo l'ora e scegli tu se far vedere velocemente eh qua ancora qualcosa sul mondo strategico se invece far vedere magari cinque cash collect nuovi che hai fatto che avete quotato su quindici tematici che anche scusami su settori tematici e quindi a te la scelta o tutti e due. Ok sì guarda eh tanto come hai anticipato avremo modo di approfondire il discorso su tracker e strategic eh ci tengo poi anche in risposta a quanto affermato sugli strike perché poi non è sempre fortunatamente così eh abbiamo emesso da da poco proprio per la flight to quality anche a livello di di sottostanti non sempre ci muoviamo su sottostanti volatile poi proprio per tornare al tuo discorso iniziale per Paolo eh noi facciamo valutazioni di mercato eh capiamo qual è il momento proviamo a interpretarlo e soprattutto proviamo a dare le soluzioni più adatte per attraversare il determinato momento eh fase di mercato che stiamo vivendo quindi nelle ultime due missioni ci siamo mossi ad esempio con certificati con airbag e e certificati come questi cash collect classici memory cash collect classici su basket di quattro titoli eh suddivisi per settore potete vederlo eh il primo basket ad esempio è un basket petrolifero il secondo è un basket farmaceutico assicurativo bancario eh europeo e automotive questo questa è l'emissione che siamo andati a proporre eh in questo caso se vogliamo andare a vedere i prezzi per tornare al discorso strike dovrebbero essere qui esatto sono fortunatamente tutti fortunatamente per i titoli sono tutti sopra la pari perché eh i sottostanti sono saliti immediatamente dopo il lancio eh ecco tra i più bassi di prezzo il petrolifero con cento virgola sei di prezzo ASC però ecco l'emissione eh è questa il senso delle nostre emissioni recenti è quello che ho spiegato cioè mercati in certi flight to quality puntare a sottostanti eh solidi bassa volatilità eh con barriere eh che strutturalmente e tecnicamente eh è più probabile che reggano eh altre caratteristiche che andiamo sempre ad evidenziare per Paolo come ad esempio eh un livello autocall che decresce che si abbassa che rende più probabile un evento autocall eh una cedola mensile che aiuta a mantenere il prezzo lì soprattutto se i sottostanti eh sono sottostanti caratterizzati da volatilità più basse eh e ecco poi la struttura è abbastanza classica ormai la conoscete non so se per Paolo ce n'è qualcuno che ti interessa più di altri no mi cura sai cosa mi volevo far vedere quello assicurativo perché abbiamo sempre detto l'assicurativo è un po' una cassaforte sotto un certo punto di vista fermo restando che poi insomma chiaramente possono esserci situazioni estemporanee però abbiamo sempre detto assicurativo è comunque più difensivo volatilità veramente molto basse e quindi sempre premi di conseguenza abbastanza ridotti e invece comunque qui vedendo abbiamo comunque un premio dello zero in questo caso è un dieciotto annuale barriera sessanta eh zero nove al mese perché lo ripeto le rilevazioni qui sono mensili quindi non è non è da poco e soprattutto ricordiamo sempre che è un vantaggio magari in termini di strutturazione ma lo è anche per chi compra lo step down sul rimborso anticipato no quindi la possibilità di vedere eh il richiamo anticipato prima della scadenza ah io direi per questa serie di cinque certificati il mio suggerimento è sempre quello di non per forza andarla a comprare il giorno che partono o il giorno dopo uno se li mette in una watch list tanto se non è oggi e domani magari tornano utili no abbiamo visto proprio senza ricordare situazioni estreme come può essere Saipem ma insomma anche ribassi improvvisi di 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 alcuni titoli e devo dire che anche adesso la situazione non è che sia proprio brillante eh ci stiamo salutando con un Nasdaq a meno due ottantadue e vedo che insomma è un po' precipitato ulteriormente sulla situazione con alcuni titoli continuano a scendere va bene Facebook rimasto lì comunque ecco questo per dire che ci sono certificati che oggi magari sono sopra la pari e fra tre settimane potrebbero essere acquistati a 95 96 quindi metterli in una watch list va bene come si cercano gli airbag sul sito Fontobele e con questo ci salutiamo ok qui eh apriamo una parentesi breve eh non si cercano in questo momento purtroppo però ci stiamo lavorando eh abbiamo prima di tutto chiesto eh alla alla divisione di issuance se è possibile addirittura eh classificarli con un nome diverso perché strutturalmente l'airbag è essenzialmente è un memory cache collect express auto callable che è chiamatelo come volete ma è la stessa struttura è solo che lo strike viene posizionato in corrispondenza della barriera quindi eh è lo stesso strumento e quindi la categoria è la stessa abbiamo chiesto se è possibile eh assegnargli un nome diverso e quindi poi rendere possibile la flag quindi anche per voi un filtro eh che vi permetta di di selezionarli ci hanno risposto positivamente dopo un po' dopo un po' di settimane che lo chiedevamo quindi eh non ancora ufficiale però posso dirvi che a breve eh potrete selezionarli esattamente come eh sto mostrando ancora lo schermo per Paolo? Sì sì eh come in home page che potete vedere tra prodotti alleva prodotti di investimento dovrebbe esserci a breve proprio una sezione una piccola sezione airbag cache collect o memory cache collect airbag. Ok naturalmente poi all'interno della scuola scusa Paolo scusami per Paolo come eh rimedio momentaneo prima del della soluzione definitiva comunque eh i certificati con airbag lo ripeto sempre non c'è scritto airbag da nessuna parte ancora ma quando vedete strike più basso di prezzo di riferimento iniziale quella è la caratteristica che vi interessa perché eh quando lo strike è posizionato in corrispondenza della barriera e non è uguale al prezzo di riferimento iniziale quello sta a indicare che c'è l'airbag perché poi rimborso a scadenza si calcola eh prezzo finale diviso strike quindi diviso barriera. Sì infatti era proprio quello che stavo dicendo una volta andando sulla scheda poi lì si capisce però giustamente immagino che la domanda di Gianvito è ma io devo arrivarci su quella scheda e quindi me li posso guardare tutti e quindi nel frattempo io aggiungo magari vai su certificati e derivati cerca Google airbag come chiave di ricerca e te li trovi tutti e poi entri nella nella pagina di Fontobel e ti vai a prendere le altre caratteristiche. Va bene Jacopo abbiamo terminato direi che abbiamo comunque descritto anche analizzato per questo primo appuntamento del duemilaventidue una novità importante che ricordiamo è quella del nucleare e dell'uranio o comunque del mondo eh di queste energie che continuano a dominare l'attenzione e anche il mondo degli investimenti e pertanto abbiamo visto questa novità poi abbiamo eh raccontato che il duemilaventidue ci vedrà sempre più presenti sul proprio sul tema dei tracker eh certificate senza poi dimenticare le eh opzioni che nel frattempo di volta in volta potranno essere interessanti sul mondo dei cash collect e similari. Quindi Jacopo grazie e un ringraziamento anche a tanti tutti coloro che ci hanno seguito fino alla fine e a te il saluto finale. Grazie mille per Paolo grazie a tutti per aver partecipato e ci vediamo alla prossima. Grazie ancora. Bene grazie a te. Buonasera da tutti e arrivederci. grazie a tutti. Grazie a te. Grazie a tutti.